Quindi, ecco cosa ho tirato giù per Winsor e Newton. Siccome non ho idea su cosa disegnare, metto la musica, faccio linea a caso e poi leggo il disegno che ne esce. Lavo la carta, così il colore non fa chiazze strane. Faccio la base, ma viene uno schifo. Tutto tutto, rifaccio il lavaggio e disegno e ridisegno perché non ho aspettato abbastanza e la mattita non scrive. Vi faccio la base, parto dai petali, bagno e coloro subbagnato. Non ho tanti colori, quindi tiro fuori un rosa dal rosso e dal viola. Alterno i petali, per non fare mischioni. Faccio un po' del martin e poi vado avanti con i petali, anche se non ne ho tanta voglia. La strada, il posto è un po' del martin. vado sul centro con un mischione di tutti i colori che ho e vai e qui ricarico e faccio il secondo giro il martin è blu e lo tiro fuori da un turchese con il viola iniziamo Passo anche i marbini e ora è finito una bella bellatura di blu per dare un po' di ombre a sto fiore che poi gli acquerelli rimane sparaflesciati. Riprendo il disegno di base e aggiungo tutte le linee di buon evento, schizzo un po' l'avanzo e voilà il danno è fatto. Riprendo il disegno. Riprendo il disegno. No.